Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Maria, sede della Sapienza, prega per noi. Continua la storia sacra, decimo episodio. Il re Saul e il pastorello Davide. Il regno di Davide. Il re Saul e il pastorello Davide. Gli ebrei volevano assolutamente un re. Dopo aver consultato il Signore, Samuele unsere un giovane robusto di nome Saul. Gli ebrei lo accorsero con gioia. Saul si mostrò subito valoroso, sconfisse più volte i suoi nemici, ma non si mantenne fedele al Signore. Per questo il Signore lo ripudiò, e diede ordine a Samuele di ungere re Davide. Un pastorello della tribù di Giuda, che abitava Betlemme. Intanto, i filistei avevano di nuovo mosso guerra agli ebrei. I due eserciti si trovavano di fronte. Ogni giorno si faceva avanti un gigante di nome Golia a sfidare gli ebrei a duello. Quando Davide lo vide, esclamò, chi è questo filisteo che osa insultare le schiere del Dio vivente? Andrò io a combattere contro di lui. Prese il bastone, la fionda e cinque pietre. Golia rise alla vista di quel biondo giovinetto. «Sono forse un cane?» disse, «che vieni contro di me col bastone?» «Tu vieni a me con la spada e con lo scudo», rispose pronto Davide. «Ma io vengo a te nel nome del Signore che tu hai oltraggiato». Così dicendo fece roteare la fionda e lanciò con violenza il sasso che si piantò nella fronte del gigante Golia, facendolo stramazzare a terra. Con un salto Davide gli fu sopra, gli tolse la spada e gli tagliò la testa. I filistei fuggirono, gli ebrei li inseguirono e ne fecero grande strage. Chi confida nel Signore riporta sempre vittoria. Il regno di Davide Davide contava trent'anni quando fu acclamato re. Egli sconfisse tutti i suoi nemici. E poiché le dodici tribù di Israele rimanevano alquanto disunite, diede loro per capitale Gerusalemme, che divenne il cuore di tutto il regno. In questa città fece trasportare con grandi feste l'Arca dell'Alleanza, per la quale aveva costruito un ricco tabernacolo. In premio dei grandi onori resi all'Arca, il Signore promise a Davide che il suo regno sarebbe stato eterno, e che dalla sua discendenza sarebbe nato il Messia. Davide fu il più grande re d'Israele, un re santo, e perciò molto amato dal Signore. fu anche profeta, e compose i salmi, che ancora oggi si cantano nella Chiesa. Eppure anche Davide peccò. Il Dio mandò il profeta Natan a rimproverarlo. Il re chinò umilmente il capo e disse, «Ho peccato, abbi pietà di me, o Signore, secondo la tua grande misericordia». Il Dio lo perdonò, ma Davide dovette fare molta penitenza. Gli morì subito un figlio. Un altro figlio, di nome Assalonne, si mise a combattere contro di lui. Il suo esercito però fu sconfitto, e mentre fuggiva, la sua capigliatura rimase impigliata nei rami d'una quercia. Raggiunto, fu ucciso contro il volere del padre, che aveva raccomandato, «Salvatemi il mio figlio Assalonne». Prima di morire Davide fece consacrare re un altro suo figlio, Salomone. Dalla discendenza del santo re Davide nacque Gesù. Sia lodato Gesù Cristo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.